Sì, siamo con Evin Zeko, è tornato in campo e subito è trovato il gol. Sì, credo che negli ultimi tre partite che ho giocato da titolare, ho segnato quattro gol, sono sulla strada giusta. È stata una settimana difficile, Edin. L'hai dimenticata messa le spalle nel modo migliore? Sì, è stato difficile perché siamo fuori dalla Champions League, ma adesso lo scusiamo e continuiamo a concentrarci sulla Liga e cerchiamo di fare bene ogni prossimo gioco. È stato difficile soprattutto per l'eliminazione dalla Champions League, ma adesso è alle spalle e siamo concentrati soltanto sul campionato e a fare bene ogni singola partita da qui fino alla fine. Ottava vittoria consecutiva, è una Roma che può puntare al secondo posto almeno. Pensiamo sul terzo posto e sul prossimo gioco perché il prossimo gioco è più importante per noi, quindi concentriamoci su questo e dobbiamo tutto per provare a vincere. Per il momento ci accontentiamo del terzo posto, daremo il massimo partita per partita, la partita successiva è sempre la più importante e questo è l'approccio migliore. Come stai adesso Edin? Avevi detto qualche settimana fa che potevi dare di più. Adesso come va? Sto bene.